Ma è questo qui il posto del famoso weekend? Coppia di imbecilli Sei preoccupato? No Sei amico di Pecchiore? Sì, sì, sì Anche amici che ci conosciamo Pecchiore non ce l'hai mai presentato Ferdinando il Duro? Scateniamo l'inferno! Due ore! Buongiorno, avete camera, per favore? Mi pare che la vogliano rapire per una certa cosa che lei sa Anzi, forse l'hanno già rapita Forse avremmo dovuto legarlo, imbavagliarlo e sbatterlo in una di quelle celle frigorite Ah, Ferdinando il Duro Però la barista è buona, eh? Sti nazi, fammi capirla E dove andiamo a parlare? E dove andiamo a parlare? Sì Sì Sì